Ciao a tutti, oggi per relazioni pericolose io vi parlerei della dissonanza cognitiva, che cos'è la dissonanza cognitiva e soprattutto per quale motivo noi percepiamo questa dissonanza cognitiva quando abbiamo a che fare con un partner o un datore di lavoro o un parente che ha sviluppato un disturbo di patologia legato al narcisismo o al borderline o alla psicopatia, può essere maschio o può essere femmina, questo lo ricordo sempre perché altrimenti i poveretti maschietti si sentono sempre a disagio perché sembra che punti sempre il dito su di loro, no può essere maschio e può essere femmina. Allora che cos'è la dissonanza cognitiva? Prima di parlarvi di dissonanza cognitiva preferirei farvi capire che cosa significa avere a che fare con un narcisista o quello che vi dicevo prima. Allora il narcisista quando parla con voi ha un atteggiamento che decisamente non è autentico. Che cosa significa non autentico? Significa che se noi dovessimo andare a vedere un narcisista da piccolino non troveremmo un bebè sereno, troveremmo un bebè probabilmente ricco di paure, di dolore, una persona che soffre terribilmente la solitudine, una persona vuota, una persona che probabilmente è stata abusata e non è stata abusata solo dal senso fisico ma è stata abusata anche dal punto di vista psicologico e quindi un bebè abbastanza disperato. Che cosa succede a queste persone? Succede che l'angoscia di vivere questa vita diventa talmente elevata che devono crearsi un cosiddetto falso sé perché se dovessero crearsi il sé reale dovrebbero anche affrontare come si può fare in una psicoterapia dovrebbero anche affrontare tutte le angosce, le persecuzioni, i drammi e le paure che hanno vissuto quando erano piccoli. Questo è un po' per spezzare una lancia nei confronti di un narcisista che vi assicuro che stare narcisisti non è una cosa carina e coccolosa nel senso che i narcisisti vivono una vita di solitudine e molto spesso non capiscono per quale motivo vengono abbandonati e dall'altro canto c'è da capire per quale motivo questo falso sé che viene creato viene percepito da noi come autentico. Perché? Perché il falso sé è anche quello che viene utilizzato ad esempio nella recitazione. Quando noi incontriamo qualcuno e percepiamo che c'è una maschera che c'è qualcosa che sta recitando, qualcosa che sta esprimendo ma che non è davvero suo ma è di qualcun altro allora abbiamo a che fare con un ruolo non autentico e addirittura non reale. È così come se una persona stesse letteralmente recitando una parte. Facciamo un esempio. Non facciamo l'esempio dell'attore, facciamo l'esempio di un musicista. Quando un musicista non è in grado di gestire una musica sua che cosa fa? Imita, fa cover di altri musicisti oppure prende un po' di qua, prende un po' di là da vari musicisti e fa una sorta di fusion che lo rendono unico a sé stante in alcuni casi. In altri si nota che c'è un insieme, una cozzaglia di esperienze musicali che lo rendono un po' incoerente tra di lui incoerente nel suo modo di fare musica. La stessa cosa avviene con un narcisista patologico. Che cosa succede? Che quando lui vive nella sua vita esperienze con vittime, varie vittime oppure con persone, oppure con colleghi di lavoro oppure con persone che hanno a che fare con lui comunque vive delle esperienze che non introietta quindi che non fa sue la sofferenza che vive con esperienze di abbandono non le fa diventare sue le fa diventare qualcosa su cui poter recitare ad esempio l'amore, quando incontra l'amore non è un amore che lui sa provare è un amore che impara a recitare perché si fa così ma non vuol dire che lo provi veramente quando ha a che fare con l'essere padre o l'essere figlio in questo caso o comunque l'essere padre non impara, non capisce davvero che cosa significa essere padre impara che essere padre ha a che fare con determinati comportamenti e quindi sviluppa determinati comportamenti che lo portano ad essere padre ed è sempre e comunque una maschera una facciata con cui noi dobbiamo scontrarci per riuscire a capire che cosa sta oltre per chi ha un linguaggio informatico potremmo parlare di una sorta di interfaccia è come se quando avessimo a che fare con questo tipo di persone ci fosse una sorta di interfaccia tra loro e quello che sono veramente loro quindi noi ci interfacciamo con questa interfaccia e percepiamo che però oltre questa interfaccia c'è qualcos'altro c'è un sé che non è coerente che non è equilibrato che non è quello che dice di essere che non è effettivamente quello che sta discutendo sta parlando e il messaggio che ci arriva è contrastante effettivamente esprimono qualcosa di loro che è già stato creato da altri quindi vi ripeto è come creare una relazione e riprodurre la relazione nella relazione successiva vi faccio un esempio quando voi vi mettete con un narcisista che ha avuto una vita precedente solitamente il narcisista che cosa fa? vi porta negli stessi posti in cui ha portato l'altra persona vi tratta a volte come avrebbe trattato l'altra persona vi regala le stesse cose che avrebbe regalato all'altra persona per quale motivo? perché privo di empatia non riesce a riconoscere i vostri veri bisogni ma impara dall'esperienza precedente che per lui amore è quello che è successo prima e quindi riproduce come se fosse una catena di montaggio come se fosse un déjà vu in questo caso si può parlare di déjà vu si riproduce qualcosa di familiare in qualcosa che in realtà è completamente nuovo quindi che cosa succede? succede che l'interazione noi che siamo empatici noi che abbiamo dipendenze affettive noi che ci mettiamo nell'ottica di avere a che fare con questi personaggi dobbiamo metterci nell'ottica di avere a che fare con personaggi che stanno recitando se non sentiamo subito che stanno recitando il nostro intuito il nostro istinto il nostro sesto senso chiamiamolo così però ovviamente in termini metaforici sappiamo che i sensi hanno tutto un altro andazzo dal punto di vista scientifico percepiamo che c'è qualcosa di distorto percepiamo che c'è qualcosa che non ci torna che è incoerente che ci fa sentire a disagio che ci fa percepire che i conti non tornano che ci fa capire che c'è qualcosa che qualcosa non mi torna in quello che mi ha detto e quindi questo campanello d'allarme è molto molto importante perché è esattamente quello che provoca in voi la cosiddetta dissonanza cognitiva che cosa significa dissonanza cognitiva? se assonanza vuol dire che due cose risuonano insieme dissonanza vuol dire che c'è qualcosa che dice un significato che ha un significato e qualcosa che invece ha un altro significato è un po' come se voi vedeste persone che parlano tanto ma che in realtà poi ha comportamenti in realtà sono completamente incoerenti questo provoca dissonanza cognitiva e la dissonanza cognitiva ha a che fare con una realtà che io percepisco e con una realtà che effettivamente non è quella che io mi aspetto percepire perché non mi viene dato non viene confermata quel determinato tipo di realtà a questo punto si crea questa dissonanza cognitiva quando percepite che delle persone sono molto incoerenti quando percepite che c'è qualcosa che non va quando percepite che sta parlando o come se stesse recitando una parte o come se non fossero sue le idee che arrivano in quel momento allora percepite una dissonanza cognitiva allora c'è da dire che nella dissonanza cognitiva non potete farci niente se non pensare che effettivamente quello che vi ritroverete a fare è quello di ripetere mille miliardi di volte le stesse cose perché? perché non fa esperienza di quello che voi dite e quindi anche a distanza di tempo non si ricorderà quello che ha fatto potrebbe aver fatto qualcosa ma non avendolo introiettato non avendolo non avendolo fatto suo non avendo fatto esperienza di quello che è successo è come se dovessero ripeterlo continuamente altre cose sono nelle litigate quindi bisognerà ripetere nelle litigate sempre continuamente le stesse cose è proprio per questo che litigare con un narcisista ci mette nella condizione di continuare a ripetere le stesse cose perché il narcisista non comprende non comprende perché non interiorizza non empatizza e non ha la possibilità di comprendere davvero quello che voi state dicendo spero di esservi stata utile la dissonanza cognitiva è qualcosa che noi abbiamo internamente e ha a che fare con il nostro intuito quando sentite che c'è qualcosa che non va cominciate a farvi delle domande se avete bisogno io sono qua il canale youtube è Emanuela Papa io vi aspetto per scrivermi potete scrivere qua sotto oppure scrivere a hashtag scusate seguilapapa chiocciolagmail.com il mio hashtag per youtube è hashtag seguilapapa io vi aspetto al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.